Belen Rodriguez, l'assenza nei ringraziamenti non sfugge, centra Giulia Delellis, il gossip Pochi giorni fa, più precisamente il 12 ottobre, Belen Rodriguez attraverso i suoi canali social ha ringraziato pubblicamente il suo staff storico, menzionando tutti coloro che in questi anni le sono stati vicini, contribuendo in parte al suo successo Nel lungo post, qualcuno ha però notato un'assenza importante. Quella del suo stylist di fiducia Giuseppe Di Cecca Tra l'Argentina e Di Cecca c'è, oltre a un rapporto lavorativo florido e stretto, anche un forte legame d'amicizia Tuttavia c'è chi si domanda il perché la modella non lo abbia calcolato Che qualcosa si sia incrinato tra i due A parlare della vicenda è stato anche il settimanale chi, che nell'ultimo numero in edicola ha svelato un gossip interessante Lo stylist di Belen oggi è, professionalmente, al fianco di Giulia De Lellis Che cosa è accaduto con Belen? La showgirl Belen Rodriguez si legge sul magazine chi festeggia i 10 anni di carriera al top e ringrazia tutto il suo staff con un lungo post su Instagram Ma tra i menzionati manca il suo fedele, e forse ex, stylist, nonché migliore amico, Giuseppe Di Cecca, oggi stilista di Giulia De Lellis Che cosa è successo? Che il rapporto si sia logorato? Oppure si è trattato di una semplice svista? Può darsi, eppure il social dà anche l'opportunità di modificare i post laddove ci siano dimenticanze o sbadataggini Chissà, i post in cui la Rodriguez ha festeggiato i 10 anni di carriera ringraziando i suoi fedeli Dopo aver menzionato le figure a lei più vicine, Belen concludeva così il messaggio social Grazie a tutti quelli che sono rimasti al mio fianco, grazie per la lealtà, grazie per il rispetto, per me è un onore avervi vicini Cancelletto 10 anni insieme e grazie a tutti voi, che state leggendo Questa mia favola non sarebbe stata possibile senza di voi Vi voglio un sacco di bene